Il professor Bruno Siciliano, docente di automatica dell'Università Federico II, un grosso progetto a Napoli che si occupa di robotica, DexMath. Come funziona? DexMath, come dice l'acronimo, è la cronazione di due parole chiave del progetto. Dex sta per destrezza, perché noi vogliamo realizzare delle mani artificiali che abbiano la stessa destrezza della mano umana. E Math sta per la parola smart, perché? Perché in questa integrazione tecnologica avanzata noi ci avvaliamo dell'impiego di cosiddetti materiali smart materials, materiali smart, materiali intelligenti e la scommessa è quella di realizzare degli attuatori e dei sensori miniaturizzati che possono essere integrati nelle mani artificiali, nelle mani robotiche e soprattutto che siano poi integrati e governabili da un sistema che a questo punto deve diventare un sistema bimanuale che opera in maniera destra e autonoma. Quindi l'obiettivo, in una sola parola DexMath, significa manipolazione bimanuale intelligente. In che settori saranno utilizzate queste macchine? Ma i campi di applicazione sono svariati. Noi siamo in un contesto nuovo della robotica, che è quello della cosiddetta robotica di servizio. Quindi rispetto, sicuramente questo può avere una ricaduta anche per la robotica tradizionale, cioè per la robotica industriale in campo manifatturiero. Però la scommessa è quella di poter utilizzare questi sistemi in ambienti coabitati dagli esseri umani. Cioè, se io voglio che per esempio il robot serva come assistente domestico a una persona anziana, a un diversamente abile, è chiaro che io devo avere la capacità di questo sistema che deve essere capace di muoversi nell'ambiente, di riconoscere gli oggetti, anche con un semplice comando vocale. Vammi a prendere un bicchiere, vammi a riscaldare una pietanza. E per realizzare questo abbiamo bisogno di sistemi che siano, proprio per la manipolazione di oggetti, quanto più autonomi e destri possibili. Quando li vedremo nelle nostre case? C'è uno studio di settore che dice che di qui al 2025 avremo i primi robot installati per applicazioni domestiche. Cioè, quello che può sembrare una cosa molto lontana da un punto di vista scientifico, da un punto di vista tecnologico, in realtà non siamo così lontani, perché da un lato la tecnologia a disposizione, parlo soprattutto dei sensori, è molto avanzata ed è decisamente a un livello di sofisticazione, in cui le capacità sensoriali sono maggiori a quelle dei sensi umani. Quello che manca è la integrazione intelligente alle informazioni, di quella che in gergo si chiama sensor fusion, cioè fusione sensoriale, la capacità di coniugare queste informazioni sensoriali e realizzare degli algoritmi di controllo intelligenti che, per esempio, mi consentano di guardare e sentire, di avere una percezione della distanza di un oggetto una volta che l'ho afferrato, di capire anche la consistenza. Bene, tutto questo è un qualcosa che probabilmente porterà un trasferimento tecnologico secondo l'istituto di settore di qui a 15 anni, 20 anni.